colpo di scena l'ho presa con la bocca piena e ho cercato quella con la bocca piena per chiedere cosa festeggiate i suoi 50 anni attenzione colpo di scena allora prendiamo questa che ha la bocca piena lo stesso va bene lo stesso sono i tuoi 50 anni lo sapevi si me l'ha detto adesso per fortuna che c'è l'amica che te lo ricorda e ti ricorda anche come ti chiami o lo sai claudia claudia da dove la prescia calde la brescia allora il tuo 50 anni giusto gli altri se stanno andando proprio scappati tutti è rimasta solo la fedele compagna ecco è fedele a proprio amicissima di una da una vita gli altri non li conosci gli altri ma sono degli imbucati per venti quindi cosa ti aspetti dalle amici stasera questo no di sicuro non me lo aspettavo non aspettavi questa l'intervista ma mi ha pagato lei proprio una cosa ci teneva tantissimo anche gli altri ci tenevano tantissimo si vede si vede come ci tenevano sono spariti tutti come fa sparire gli amici in un minuto fa rilasciare un'intervista incredibile tra l'altro come intervista ok allora ripeti il tuo nome claudia claudia è sempre lei eh va bene dall'amica non ti aspetti niente perché ma neanche la cena mi aspettavo assolutamente ti hanno portato sorpresa esatto vedrai dopo cena il california dream man arrivano più tardi eh era una sorpresa vedi che lei è contenta ok alla fine roncadelle dream man eh abbiamo la versione abbiamo una versione low cost ecco a più artigianale chilometro zero perché noi siamo attenti al territorio mi sembra la tua amica si tiene al territorio tu ci tiene territorio assolutamente si territoriale va bene ok quindi dopo ci saranno appunto i roncadelle e adesso invece ti hanno rapito da casa no mi hanno portato qua c'era ma non sapevo che c'erano tutti ah ti ha fatto la sorpresa ah ecco quindi lei ha radunato gli amici esatto di una vita in pratica perfetto la vedo la riconoscenza incredibile negli occhi fammi la faccia riconoscente alla telecamera proprio ecco così che è riconoscente anche abbronzante tra l'altro come si chiama l'amica margherita ti è arrivata l'imboccata ti sta mettendo il pesce in bocca non so se ti sei accorta di questa cosa è un messaggio subliminale eh certo ci amiamo queste queste amiche incredibili salutiamo così col pesce in bocca va bene ecco il pesce in bocca va bene ecco il pesce in bocca va bene ecco l'amica ma para tolare ecco l'amica ecco la ecco la ecco l'amica ecco l'amica